Il Giove era immenso, lo chiesava in un modo ruvido, cioè il cucinato lui non lo sapeva fare. Era una specie di Hulk, te lo ricordi Hulk, aveva delle pietre nelle mani e con i cazzotti ammazzava degli animali enormi. Chi era Giove Sposito? Giove Sposito è stato uno dei pugili più importanti di Napoli. Lui è stato un mito del pugilato napoletano, allenatore di Patrizio Liva, fonte di ispirazione per Clemente Russo e ha rappresentato una figura importante per la città, visto che ha partecipato alla storia della città. Il picco particolare è che Giove Sposito non è mai esistito. Giove Sposito un po' anche, pur non esistendo, è il simbolo di quella Napoli povera e proletaria. Assolutamente. Io ho cercato di raccontare attraverso la sua figura un'altra immagine della città di Napoli. Una Napoli che non si arrende, una Napoli forse meno nota ai mezzi di comunicazione e soprattutto meno divulgata, meno raccontata. La Napoli delle quattro giornate, la Napoli che non si arrende di fronte al colera, di fronte al terremoto, di fronte alle tante tragedie che ha dovuto affrontare e, insomma, Giove Sposito è stato un pretesto per raccontare tutto questo. A chi è ispirato il tuo lavoro? Allora, il mio lavoro è ispirato a un pugile proprio di queste parti, cioè a Tonino Borraccia, che io ho adorato, ho letto la sua biografia, ho conosciuto la sua famiglia e, insomma, a tanti altri pugili, ma in primis a questo grande pugile ischitano, che purtroppo stasera non è qui con noi, che però saluto affettuosamente. E, insomma, essere qui, in questo luogo in cui ho intervistato Tonino, in questo festival magnifico, che, insomma, credo veramente, senza poter essere smentito di dire, che è il miglior festival al mondo per organizzazione, per location, per meraviglia, insomma, davvero, credo, si tratti di un festival più importante di Cannes, Venezia, Berlino. Quindi sono onorato di essere qui e, appunto, mi dispiace non sia qui con me Tonino, che, insomma, ho intervistato a pochi metri qui, alla Torre Guevara. Grazie a tutti.